Pronto Alberto, ristorante Piseria Sterlina, solo a Fedora. Mario, dove andiamo a mangiare oggi? Ma si va alla Sterlina. Si, ma siamo a 300 km di distanza. Al gasolio non costa niente. E allora? Lo sai che mi piace mangiare bene e spendere poco. Io per te. Matteo, vieni a vedere che baltartuffo che ho trovato. Vieni a vedere. Fedora si crediamo alla bimba, siamo in 120. Ah, nessun problema, c'è posto per tutti. Anche fuori in veranda. Basta uscire a Rioveggio sulla 1 e soli 5 km verso Castiglione dei Pepoli. Comodissimo. Metti uno qua, va. Eh, ne ho trovato quella bollata, ero bellissoccia. Scusi? Mi dica. Vorrei un piatto di tagliatelle. Mi va bene anche a comprare. Di tagliatelle e compre le vai a mangiare da un'altra parte. Qui pasta solo fatta in casa. Bubi, hai pronto la pasta per la pizza? Zitto, non vedi che sta riposando? Ascolta Mario, ma hanno anche da dormire? Vedessi che belle camere. Abbiamo camere singole. Abbiamo anche camere doppie. Tutte con bagno e aria condizionata. Ristoranti e pizzeria sterlina, siete aperti oggi? Tutti i giorni, tranne sabato e pranzo, tre notti bene perché siamo sempre pieni. Buongiorno, cosa vi porto di buono? Allora ragazza, noi vorremmo sentire un po' di tutto di quello che hai sul menù. Tipo tortelloni, tagliatelle ai porcini, pappardelle al cinghiale. Faccio le pizze al ristorante, dico son buone e ne faccio tante. Mi chiamo Umberto, sto in pizzeria, le faccio anche da portar via. Caramelle, salsiccia rucola, crescentine con affettato, torfino di patate, al tartufo e per finire un po' di porcina. Guarda bellone come si gonfiono, è mica fixion questa. Vino buono e due caffè, senza zucchero, che vogliamo stare leggeri. Ti piacciono eh? Ti piacciono eh? E tu li vuoi mangiare? E non resta bene.